Oggi ragazzi farò una ricetta dedicata a mia mamma, il gelato malaga. Lei ne va pazza e io non vedo l'ora di renderla soddisfatta. Avete presente no come si fa? È una base gialla, quindi un gelato a base di uova che viene poi arricchito con uvetta ammollata nel rum. E adesso poi che l'estate sta bussando alla porta, un gelatino è proprio quello che ci sta a pennello. Vediamo come preparare il gelato malaga. Ingredienti 560 ml di latte intero 120 g di zucchero 15 g di zestrosio 180 ml di panna fresca 4 tuolli 5 g di farina di semi di carrube 1 baccello di vaniglia 100 g di uvetta 100 ml circa di rum La prima cosa da fare per preparare il gelato malaga è iniziare la sera prima. E ho messo in ammollo l'uvetta nel rum. 100 g di uvetta 100 ml di rum E questo è il risultato. Vedete che l'uvetta si è praticamente assorbita quasi tutto il liquido. E' importante utilizzare l'alcol perché? Perché in questo modo non solo daremo un aroma tipico, particolare insomma al gelato, ma abbasseremo anche il punto di congelamento dell'acqua contenuta all'interno della massa. Ok? In alternativa a Roma potete anche utilizzare altri liquori come ad esempio il marsala oppure il vino madeira. Ho poi sgusciato le uova, diviso i tuolli dagli albumi, gli albumi non li buttate, potete utilizzarli per la preparazione di amaretti o meringhe ad esempio. Versiamo ora i tuolli all'interno di un frullatore dove ho già messo lo zucchero. Ho inciso un baccello di vaniglia a metà, raschio con il coltello per rimuovere i semini, così, anche se togliamo dei filamenti non importa perché poi comunque filtriamo tutto il liquido. Versiamo poi il nostro addensante per gelati, quindi la farina di semi di caruba che io ho acquistato online, però potete chiaramente trovarlo o richiederlo in farmacia. E mettiamo anche il destrosio che ci serve anche questo per abbassare il punto di congelamento della massa. Chiudiamo e lavoriamo il tutto fino a formare una crema, quindi per circa 10 minuti. Nel frattempo versiamo il latte e la panna fresca all'interno di una casseruola. La teniamo al minimo, la panna. Aromatizziamo con il baccello di vaniglia, ci sono sempre degli semini. Il latte dovrà arrivare alla temperatura di circa 70 gradi. Azioniamo dunque il nostro macchinario. Quando la crema è diventata una spuma ed il latte ha raggiunto la temperatura di circa 70 gradi, possiamo versare il latte all'interno del frullatore, al minimo. Le uova non si straceranno grazie alla presenza dello zucchero che funge da anticoagulante praticamente. A questo punto versiamo di nuovo la miscela all'interno della casseruola. Vedete, ho messo un colino per filtrare gli eventuali filamenti della vaniglia, vi ricordate? Mescoliamo e portiamo alla temperatura di 80-85 gradi mescolando continuamente, in questo modo riusciremo a pastorizzare la miscela per una miglior conservazione. Raggiunti gli 85 gradi, vedete che la crema si è un pochino addensata ma le uova non si sono sfracciate come deve essere. Possiamo riporre il tutto in frigorifero, magari aspettiamo circa una mezz'oretta in modo che si abbassi un po' la temperatura senza andare a sovraccaricare il frigo. E poi lasciamo completamente raffreddare per circa 8 ore, un'altra notte. Come al solito mi sono già preparata la miscela, vedete che si è addensata molto meglio, adesso si vede. Che cosa dobbiamo fare? Ho preparato qua la gelatiera, versiamo la miscela all'interno e poi azioniamo la nostra gelatiera. Ci vorrà circa mezz'oretta. A metà mantecatura andremo ad aggiungere l'uvetta però poi vi faccio vedere. Prima facciamo addensare in parte il nostro gelato, o meglio gelare il gelato, gioco di parole. Mantechiamo dunque per 15 minuti e poi vediamo come procedere. A metà mantecatura possiamo unire la nostra uvetta gonfiata con il rum. La mettiamo un po' per volta e versiamo anche tutto il rum. E questo ci aiuterà, come vi dicevo prima, anche a farlo mantenere il gelato morbido e cremoso. Mantechiamo altri 5 minuti, dopodiché mettiamo in congelatore e lasciamo raffreddare o meglio congelare per un'altra orette, in modo che si rapprenda la perfezione. Potete comunque replicare il vostro gelato senza gelatiera. Se non ce l'avete, versate la miscela all'interno di una vaschetta dai bordi bassi e piuttosto larga. Andate a mescolare spesso e dopo un paio di ore versate l'uvetta. Fate praticamente la stessa operazione che abbiamo visto qui, mimando l'azione di mantecatura, quindi mescolando spesso. Dopo circa mezz'ora di mantecatura, questo è il risultato. Il gelato non è ancora perfettamente formato, ma questo è più che normale per questo tipo di gelatiera. Quindi, come vi dicevo prima, adesso il gelato lo metto all'interno di una vaschetta e poi in congelatore per una o due ore. Poi è pronto da degustare. Allora ragazzi, vi è piaciuto il mio gelato Malaga? Potete chiaramente sostituire parzialmente o totalmente il rum con un altro liquore o anche con la grappa per dare un tocco personalissimo al vostro gelato. E spero di aver fatto felice mamma con questo dessert. Ciao ragazzi, un bacio, a presto! Ciao!